Salve a tutti, vediamo come risolvere l'enigma della cassaforte su Silent Hill 2 Remake. Allora, dopo essere entrati nel ripostiglio e aver preso il tasto, interagiamo con i libri e andiamo a riordinarli, completando il disegno, non è difficile, per sapere esattamente a che numero corrisponde ogni simbolo. E dopo questo sappiamo la soluzione. Allora, andiamo a piazzare il tasto della cassaforte che abbiamo appena trovato e inseriamo, allora, il sesto simbolo, partendo da sinistra, poi il terzo simbolo, il nono simbolo, quindi l'ultimo a destra, il quinto simbolo, l'ottavo simbolo, quindi il penultimo, e infine il settimo. E così abbiamo aperto la cassaforte e abbiamo ottenuto la chiave per il tetto. e adesso possiamo proseguire con la nostra partita. Spero di essere stato utile, ci vediamo al prossimo video.